Sì, infatti dopo la sconfitta di Castellammare comunque ci siamo posti degli obiettivi di fare un passettino alla volta quindi di fare un passettino alla volta perché comunque siamo in difficoltà ma penso ancora adesso dobbiamo lavorare tanto di cercare di pensare partita dopo partita di cercare di guadagnare un po' di fiducia, un po' di morale e metterci a posto e per fortuna adesso sono anche due risultati utili che quest'anno non ci sono mai riusciti, quindi adesso vediamo di continuare così Se la squadra sta assumendo piano piano un po' di fiducia in più mentalmente sei un po' più libero, però con questo comunque non vuol dire che comunque devi giocare in situazioni poco fluide, devi stare sempre attento e fare sempre la scelta giusta però adesso stiamo ritrovando la nostra identità di gioco e ci prevediamo ad essere la prossima che finora non abbiamo fatto neanche un punto fuori casa, adesso il prossimo obiettivo è quello Sapevo che era in difficoltà però so che quando si è in difficoltà anche i giocatori bravi che hanno in rosa poi dopo mentalmente è molto più difficile, la mente è meno allenabile delle gambe e quindi sapevo che era in difficoltà ma non a questo punto penso però che come noi si riescono comunque a sbloccarsi, a fare una vittoria poi dopo penso che si salveranno facilmente Questa volta di essere il secondo di tutto dell'Ossetutivo è anche la seconda partita di Fila che è Martina e Fila, questo è un primo dato Il secondo dato è che la vittoria di Tercutti è una porta a crocezza per il primo posto Sì, ho detto prima, adesso ci dobbiamo porre degli obiettivi non dobbiamo pensare alla salvezza diretta perché secondo me è un ostacolo molto molto lontano dobbiamo pensare adesso che c'è l'ISC a un punto e cercare comunque di scavalcarla e una volta se ci dovessimo riuscire a scavalcare l'ISC poi magari pensare all'altra e questi sono gli obiettivi che ci possiamo porre perché comunque pensare alla salvezza diretta e torniamo allo stesso punto di 20 giorni fa che magari dicendo no ci possiamo salvare ci possiamo salvare e perdevamo Sì, perché poi magari vai a giocare a viso aperto cercando di vincere e poi perdi e questo è allora, l'ho detto, dopo la brutta figuraccia di Castellammare abbiamo pensato comunque a cercare di vivere la partita senza assilli di dover per forza vincere la partita perché comunque bene o male dovevamo evitare l'ultimo posto penso che l'ultimo posto manca la matematica l'abbiamo quasi raggiunto e dobbiamo pensare a prepararci ai play-out e poi pian piano vediamo di passare qualche squadra davanti a noi e poi pian piano vediamo di passare qualche squadra davanti a noi